Arresti domiciliari per Gabriele Paolini, il noto disturbatore di trasmissioni televisive, arrestato il 10 novembre scorso perché accusato di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Il Tribunale del Riesame ha accolto le istanze dei difensori di Paolini, disponendo che vada agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori. Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale perché sarebbero venute meno le esigenze cautelari.